Allora dicevo benvenuti a tutti, oggi parliamo di geolocalizzazione, apprendimento e divulgazione di prossimità, che sono temi molto particolari che richiederebbero ovviamente parecchio tempo a disposizione, proprio una vera e propria disamina di tutta una serie di questioni, ma noi cominciamo con due nostre ospiti che sono appunto Milena Nicoli, che dovrebbe essere con la sua amica Shirley, ma Shirley non è potuta venire, quindi ci parlerà Milena, e poi Anna Borghi, che ci presenteranno due aspetti interessanti che riguardano proprio il tema appunto mappe, che poi declineremo in geolocalizzazione. Poi faremo delle domande, sentiremo quello che hanno da dire e poi chiudiamo la questione con una presentazione del tema appunto che cos'è la geolocalizzazione e soprattutto che cos'è l'apprendimento di prossimità e vedremo anche, vedete qui questo cartellone alle mie spalle, e poi vedremo, vi farò vedere ma senza illustrarvi il funzionamento, alcuni strumenti utili perché sarebbe nostra intenzione, se voi siete d'accordo e alla fine di questo webinar ci sarà un interesse, proseguire con questo tema e quindi analizzarlo più nello specifico e dunque calendarizzare qualche cosa nel percorso tra Central Park Ortobotanico e Arkham Asylum. Dunque direi Milena, allora Milena c'è, l'abbiamo vista, dunque Milena cosa fai? Vediamo se ti posso condividere lo schermo, giusto? Così tu puoi farci vedere la tua bellissima presentazione e parlare del tuo lavoro. Ok, io e Shirley siamo due educatrici ambientali che lavoriamo per il Parco dell'Ura e in quell'occasione abbiamo scelto di lavorare con le superiori, quindi con ragazzi dai 15 anni in su. Abbiamo scelto un tema che è appunto la mappa bio regionale che è una mappa che descrive non tanto il territorio ma descrive le curiosità e la cultura e la tradizione di un territorio. Quindi abbiamo preso, se mi fai partire le slide Alberto così almeno si vede un po' bene. Sì, le vuoi far partire tu condividendo lo schermo? Perché ti ho dato la possibilità di condividere lo schermo. Perfetto, allora dovrebbe arrivarvi. Vediamo se vi sta arrivando. Condividi, lo vedete? Sì. Allora vado all'inizio. Ecco. Quindi siamo partiti partendo dalla... Arriva? Ok. Il progetto si chiama Il cammino del pellegrino per valorizzare un turismo lento e parlare di cultura e di aspetti naturalistici del territorio del Parco dell'Ura. Siamo partiti con la mappa del Parco che viene attraversata da un sentiero, l'unico sentiero principale, con direzione nord-sud. Questo sentiero coincide con una ciclovia, la ciclovia numero 5 che collega Londra a Brindisi. Ma è anche su un vecchio tracciato medioevale che portava i pellegrini del nord verso Roma. Quindi ecco perché è stata chiamata la via dei pellegrini perché è su un vecchio tracciato francigeno. Quindi partendo da queste due informazioni abbiamo detto ma se siamo dei pellegrini che cosa succede in quel territorio? Da che cosa è caratterizzato? qual è la cultura che lo ha formato? Quindi è nata poi questa mappa bio regionale che alla fine è diventata altro e adesso ve lo racconto. Quindi prima tappa è che obiettivi ci siamo dati? Quindi sicuramente conoscere il territorio dal punto di vista storico e naturalistico e naturalmente anche geografico, capire qual è la cultura di questo territorio e capire anche come i ragazzi si approcciano a questo nuovo metodo di approfondimento. Quindi fa scattare in loro un po' la curiosità e l'affezione anche al loro luogo. La struttura del viaggio ce l'eravamo immaginata in tre filoni, quindi esplorare gli aspetti naturalistici naturalmente del parco, esplorarne la cultura e le curiosità, la tradizione e poi anche un'attenzione al gioco, allo star bene nel parco, a viverlo anche in relax. Quindi tre aspetti che abbiamo voluto mettere lì. Chi sono i viaggiatori? I viaggiatori sono artisti, abbiamo lavorato con il liceo artistico, gli scienziati con il liceo scientifico di Saronno, cuochi perché abbiamo messo dentro anche l'alberghiero e gli operatori turistici perché c'erano gli studenti del turistico professionale. Quindi loro sono quelli che hanno iniziato il viaggio insieme a noi. Dove siamo andati a recuperare le informazioni? Prima tappa recupero della memoria storica del territorio, quindi dove siamo andati? Negli edifici storici, negli archivi comunali e privati, abbiamo parlato con le amministrazioni, abbiamo parlato con degli storici, abbiamo parlato con dei giornalisti e con degli scrittori. Gente che comunque ci ha raccontato, ci ha raccontato cose che poi sono state verificate dai documenti che abbiamo poi trovato negli archivi. Beh, a me che gli archivi piacciono un sacco, è stato bellissimo, quindi l'odore della carta vecchia, bello, molto molto bello. Poi altra indagine sono state le indagini naturalistiche, quindi che flora, che fauna, che cosa c'è sul territorio che parla di ambiente. Quindi siamo andati anche ad intervistare i tecnici del depuratore, essendo il parco dell'Ura, un parco attraversato dal torrente L'Ura e che ha molti progetti che parlano di acqua, siamo andati a capire che tipo di acqua c'era nel nostro territorio. Le classi poi dell'alberghiero invece hanno analizzato che piante ci sono, cosa possiamo farne, che tradizione c'è, perché hanno usato queste piante, che ricette, che piatti ne sono venuti fuori. Quindi siamo andati a raccoglierne, abbiamo fatto un ricettario e abbiamo approfondito anche l'aspetto più culturale. Ecco, le classi poi hanno messo insieme tutti i dati raccolti, abbiamo fatto una guida turistica, soprattutto della città di Saronno, abbiamo indagato le varie epoche, abbiamo fatto dei racconti, abbiamo scritto dei testi, delle analisi, insomma tutto quello indagato è stato scritto e tutto quello scritto è passato all'istituto artistico che dai racconti ha tradotto in immagini quello che gli altri studenti hanno passato, hanno fatto delle prove tecniche, hanno usato degli strumenti informatici, dei programmi di grafica e da qui, il viaggio è finito, hanno creato questa mappa. L'istituto artistico ha fatto i disegni, l'istituto scientifico ha trovato le notizie scientifiche, gli altri istituti hanno trovato delle altre cose e tutti insieme hanno creato questa mappa bio regionale che è diventata però una tovaglietta, una tovaglietta da distribuire agli esercizi commerciali, alberghieri, le tavole calde, i bar con tavola fredda, in modo che tutta la popolazione possa così, mentre mangia, scoprire delle curiosità del territorio. Quindi il nostro cammino del pellegrino è diventato una tovaglietta. Ecco, le notizie sul tavolo pronte, fresche, questo è un po' in tutto. spero di essere stata chiara. Grazie Milena, sei stata chiarissima, ma poi soprattutto sei stata molto sintetica. Ieri abbiamo avuto uno scambio di mail e ho detto, guarda che il tempo è poco, devi stare proprio in 5-6 minuti. No, ma perché noi adesso vogliamo… Tu, continua a condividere lo schermo. Ah, scusami. Sì, sì, perché così magari possiamo tornare avanti indietro e possiamo portare delle domande. Guarda, io la prima cosa che ti direi è che la prima slide che tu dovresti inserire è una slide riassuntiva di tutti i prodotti che avete creato intorno a questa ricerca. Ok. Perché ne avete prodotti diversi, quindi proprio la prima cosa che farei è l'elenco dei prodotti, poi la suddivisione dei compiti tra le varie scuole. Sì. E poi proprio io disegnerei una timeline dal punto A al punto X, diciamo così, no? Sai, proprio una freccia, una freccia disposta orizzontalmente, con un punto di partenza e poi via via tutto quello che è stato fatto per arrivare poi alla conclusione. Sulla prima o le prime due slide, diciamo, no? Dipende anche dall'ingombo. Perché? Perché questo è un lavoro molto complesso. È un lavoro molto complesso del quale è difficile decifrare la complessità e la struttura senza qualcuno che lo spieghi. Certo. Il nostro problema, che poi è il tema anche che noi sviluppiamo all'interno di questo corso, è precisamente il fatto che occupandoci di divulgazione, in chiave narrativa ovviamente, noi vogliamo che i prodotti che distribuiamo siano ovviamente comprensibili senza bisogno di qualcuno che lo spieghi. E che cosa conta di più in tutto quello che hai spiegato? Quello che conta è il processo, è il meccanismo attraverso il quale. Perché? Perché il processo è fonte di ispirazione. Che cos'è una fonte di ispirazione in questo caso? La fonte di ispirazione in questo caso non sta nel fatto che qualcun altro possa mettere insieme tre scuole, cercare un territorio e fare esattamente tutto questo. Ma la fonte di ispirazione può essere quella invece di prendere degli aspetti di quello che voi avete fatto e cercare di riprodurli, magari anche nel piccolo di una classe. Qual è l'idea centrale di questo progetto? Secondo me, poi tu dimmi se sbaglio. L'idea centrale, quello che emerge, quello che veramente deve essere colto, è il fatto che chiunque può creare una mappa. La mappa non è più una prerogativa di un certo modo di vivere il territorio. E qual è questo certo modo di vivere il territorio fino ai giorni nostri, fino a qualche anno fa, diciamo così, è fondamentalmente legato al marketing. Perché anche tutte le spiegazioni, tutti i contenuti culturali, scientifici, eccetera, hanno sempre una funzione di marketing. Non esiste. Non esiste una divulgazione indipendente nel nostro ambito, tranne che in rarissimi casi. Ora, se noi spostiamo invece, e quindi questo è stato facile, perché? Perché alcuni gruppi, gruppi editoriali, produttori, eccetera, eccetera, reti commerciali e così via, avevano, cioè la prerogativa di costruire mappe erano nelle loro mani. Infatti poi vedremo questo aspetto anche con Anna, tra l'altro, che ci mostrerà qualche cosa sulla professione proprio di chi crea la mappa. Oggi invece l'asse si è spostato. Chiunque può creare una mappa. Ma cosa vuol dire il fatto che chiunque possa creare una mappa? Beh, prima di tutto che possono essere delle mappe indie, come la musica, cioè indipendenti, come il cinema, il cinema indipendente, così anche la divulgazione indipendente. Non dobbiamo necessariamente passare per i grandi gruppi, non dobbiamo necessariamente passare attraverso finalità di marketing. Questo è il primo dato. Il secondo dato, che dimostra molto bene quello che voi avete fatto, è che la mappa, la mappatura di un territorio, non può essere oggettiva, cioè ci sono ovviamente aspetti oggettivi, ma fondamentalmente deriva dalla relazione che si stabilisce tra il soggetto e il territorio, o tra un gruppo di soggetti e il territorio. Questo è evidente. Se io mi recco in una comunità montana, il modo con cui gli abitanti di quella comunità vedono il loro territorio è diverso da come lo vedo io, che ci sono andato una volta nella vita, o due volte. È chiaro questo. Però questo rapporto è precisamente ciò che è stato espulso nei secoli dalla procedura di creazione delle mappe. Perché? Ma perché il marketing deve parlare in un linguaggio medio che vada bene per ampi gruppi di consumatori e non per delle fruizioni. Per esempio, un dato evidente è che nella vostra mappa ci sono dei sentimenti. Ma non ci sono sentimenti nelle mappe. Tu prendi una guida del Touring Club, tu prendi qualsiasi cosa, non ci sono i sentimenti. Ci sono delle valide e precise descrizioni oggettive, ma non possono esserci dei sentimenti. Perché? Perché il sentimento determina un approccio soggetto, territorio, che non può essere un approccio globale, non può essere un approccio universale. Il fatto poi di servire la mappa a tavola secondo me è geniale. Non so se voi ci avete pensato, ma è una metafora fantastica. Perché mangi la mappa, cioè te la consumi proprio, ma perché diventa la tua mappa. Te la consumi, è per te. Queste sono, diciamo così, qualche osservazione che viene spontanea. Alberto, posso dire un paio di aspetti? Intanto complimenti a Milena, bellissimo lavoro. Due cose. Uno, sicuramente il fatto che ogni mappa, appunto, con il bioregionalismo, secondo me l'ha esplicato bene. Cioè, è il concetto proprio di pensare al genius logic. Quello che dicevi tu Alberto, cioè il paesaggio, la definizione europea di paesaggio è cambiata, diciamo così storicamente. Adesso è chiaro che il paesaggio che io vedo è diverso da quello che vede qualcun altro. Perché? Perché Deio ha l'interazione millenaria tra l'uomo, il territorio, come l'ha vissuto, come l'ha lavorato, come l'ha forgiato, come l'ha reificato, no? Quindi, questo tipo di mappe, proprio, è l'ideale per fare questa cosa e ognuna sarà sempre diversa dall'altra. La cosa fondamentale è che ogni territorio sarà completamente diverso dall'altro. cioè, se noi siamo abituati a utilizzare la mappa della compass classica in montagna, sono tutte uguali, no? Iso-Ips a una certa distanza, versanti fatti in una certa maniera, qui troviamo invece il rapporto delle persone col territorio. Quindi questa è la grossa valenza. Quindi saranno sempre diverse a seconda anche di chi le fa, queste mappe. E saranno diverse anche a partire dallo stesso territorio. Assolutamente, esatto. E questa è la cosa interessante. E quindi vuol dire che l'obiettivo non è produrre una mappa, cioè, fatto questo lavoro, non lo si può più fare. No? È giusto? Assolutamente. Assolutamente. L'altra cosa interessante che secondo me potrebbe essere uno sviluppo è quello che, visto che si parla moltissimo di Cammino, Via Francigena, percorso del Pellegrino, che poi gli avete dato come altro nome, qui dovreste veramente creare una volta all'anno un percorso di due giorni all'interno del parco, da fare a piedi coi ragazzi. Questo bisogna farlo per forza, perché diventa poi qualcosa in cui metti in pratica quello che sostanzialmente hai elaborato. E sì, Ivan, c'era questa cosa. Poi il Covid ha bloccato tutto, ma si pensava a una biciclettata, perché ai ragazzi piaceva molto farla in bicicletta, sono un po' pigri, e allora avevano detto, no, a piedi no! E allora ho detto, vabbè, facciamolo in bici, percorrere tutto, sono 25 chilometri circa, quindi va bene, in bici. E volevamo fare questa cosa, panini, andare a trovare magari chi aveva partecipato, gli storici, ad ogni tappa raccontare una storia, e però è andato tutto così. A niente, magari lo rifaremo, non so, magari sì, lo rifaremo, anzi, mi piacerebbe molto farlo. E quello, sì, se si riesce ad andare in zona gialla, magari sarebbe bello rimetterlo in pista, però per ora non l'abbiamo fatto. Bene, ci sono altre domande, interventi, così abbiamo tre minuti ancora con Milena. Ma dico io due cose, posso? Sì, sì, certo. Ma dunque, a partire da, ben, innanzitutto, bello, mi piaciuto, quindi grazie Milena. E, diciamo, l'idea è quella di una necessità, no? Una necessità di mostrare in maniera soggettiva un territorio. E questa è una necessità, se vogliamo, culturale, comunque limitata. Volevo semplicemente, diciamo, rendere a vostra conoscenza, se non lo conoscete, che c'è uno, penso, dei tanti esempi, ma sicuramente interessante, di mappatura del territorio necessaria in termini stretti. Cioè, proprio pensando al vero significato di questa parola, necessario. Ovvero, una opera di cartografia sociale che, da almeno vent'anni, viene portata avanti in una zona della foresta amazzonica brasiliana, nella zona di Manaus, dove letteralmente alcuni docenti, in particolare un antropologo che, tra l'altro, abbiamo avuto occasione, una dozzina di anni fa, di invitare al Parco Nord, che ha avviato quest'opera di, come dire, di accompagnamento delle popolazioni locali, di queste zone dell'entroterra di Manaus, zone che sono lontane due giorni di barca dalla capitale, e quest'opera di, diciamo, di conoscenza, o meglio, di valorizzazione del proprio territorio, ha la funzione fondamentale di far riappropriare le generazioni giovani che tendenzialmente tendevano a perdere il contatto col territorio e quindi migrare verso Manaus, verso la grande città, dove sarebbero diventati carne da macello, fondamentalmente. Quindi quest'opera di riappropriazione del territorio è stata fondamentale appunto per, come dire, limitare questo spostamento e quindi, come dire, moria letteralmente di cultura e di popolazione. C'è questo sito molto interessante che riporta queste esperienze, nonché queste cartine che sono straordinarie, bellissime da vedersi, che proprio, come dire, dal mio punto di vista, riportano questa, cioè rimettono la parola necessità in binari, come dire, di un certo tipo. Ripeto, a partire da una necessità, come dire, culturale a una necessità vitale. Perfetto, grazie Max. Senti, metti l'indirizzo internet nella chat e poi, casomai, lo possiamo riprendere all'interno di un forum, no? Vi ricordatevi, chiaramente, poi a Gotham. Allora, vi ringrazio per questa prima parte. Adesso noi, restando sempre sul terreno delle mappe, però lo vediamo da un'altra prospettiva, che è quella di Anna Borghi. Anna Borghi è una professionista della creazione delle mappe e ci parlerà, appunto, di questo tema. Anna, ci sei? Ah, sei sempre qua davanti a me, perfetta. Sì, sì, sì. Vabbè, per chi non mi conosce, tanti di voi mi conoscono qualcuno, magari no. Io sono un dottore agronomo, mi occupo di educazione ambientale, ma nel frattempo faccio il dottore agronomo. E facendo il dottore agronomo mi trovo a, praticamente, da quando mi sono laureata, anzi, durante anche la tesi di laurea, a creare cartografia. L'idea era, quindi, appunto, condividere un paio di evocazioni, in realtà, niente di stratosfericamente difficile. Uno è un lavoro che ho appena fatto per un cliente, che è un'azienda agricola. Vabbè, visto che è un'azienda agricola biologica, c'è tutto online, e quindi non vi faccio vedere dov'è, ma a parte quello... E quindi cosa dovevo fare? Dovevo certificare l'azienda e dovevo raccontare l'azienda al certificatore. L'azienda è in un'area della Lombardia e quindi in Lombardia abbiamo, per fortuna, una buona cartografia di base, libera, scaricabile, con delle ortofoto, che quindi sono delle fotografiere di dettaglio, che ci permettono di identificare le cose. Poi qua ho usato quella di Google Satellite perché era più aggiornata, in realtà vi faccio vedere anche quella del 2018, se il sito di regione, che aveva ancora degli errori di un rilievo più vecchio e quindi non c'era... Qui ci sono la cartografia più vecchia che non rappresenta alcune delle culture praticate. Cosa dovevo fare? Semplicemente due cose. Dovevo identificare le particelle agrarie, quindi quali erano le particelle, visto che anche questo è di dominio pubblico, ve lo faccio vedere. Quindi le ho identificate e le ho numerate. Poi vabbè, ci sono delle leggende relative ai colori che non vi svelo perché questo invece è un dato privato dell'azienda. e quindi una cosa veramente molto molto semplice perché è un ricalco delle particelle. Quindi sono tutte cose molto rapide, molto veloci. Io uso questo programma che è un programma open source, quindi lo potete scaricare, Quantum GIS. È un po' difficile all'inizio, ma poi in realtà una volta che uno è entrato nella filosofia è molto molto interessante poi giocarci. ovviamente lo facciamo magari con le colture in cui posso farvi vedere in realtà le colture che hanno praticate. L'altra cosa che ho identificato sono le colture. Quindi quali colture e che qual è la data di semina che ci interessava. ovviamente questo vuol dire che io posso comunque anche cambiare la leggenda e quindi adesso ho una leggenda che rappresenta ogni coltura con un colore diverso che ho scelto un po' a caso, ma posso tanto per farvi dare un'idea di quello che posso fare cambiare e far sparire le differenze tra le diverse culture o cambiare le linee. Adesso sono linee tratteggio e punto, farle diventare linee continue, farle diventare più grosse e così via. Come vedete la leggibilità della cartina cambia. Quindi una delle cose che mi ha interessato anche perché ho lavorato tanto con degli architetti è stato proprio lavorare su i retini in modo da avere delle carte ben leggibili. Considerate che la linea una volta stampata ha un suo volume, una sua spessore che quindi deve essere tenuta in considerazione così come i colori. se adesso tentiamo di tornare indietro che non si potrà se io facevo le rose di un colore blu magari non vi dava l'idea di essere rosa e quindi io ho cercato di usare come colori i colori del fiore per aiutarmi a leggere la cartina. Tra l'altro i colori in questo caso è un prodotto stampato con i nomi delle piante quindi non ha problematiche per chi poi lo leggerà. Nel momento in cui invece le devo presentare a un grande pubblico ci sono delle delle categorie di colori che posso usare meglio rispetto ad altre proprio per dare la possibilità a tutti di leggerli e ci sono proprio all'interno del database di colori qua vabbè ho scelto un colore di simbolo singolo ma se faccio categorizzato posso scegliere delle scale colori che da diversi cataloghi e all'interno questo è il catalogo peggiore direi che è perfetto da diversi cataloghi che mi permettono appunto di anche tener conto del fatto che ci siano delle persone che hanno difficoltà visive e quindi ci sono da qualche parte adesso è da un po' che non cerco queste cose ma ci sono delle scale colori più leggibili altre assolutamente non leggibili se usano una scala colori che va dal blu al marrone in mille colori diversi diventa illeggibile soprattutto se lo faccio vedere su schermo oppure le scale dal verde al rosso che per chi è dal tonico si impesta su tutto e non si capisce niente e quindi questo è uno dei lavori che ho fatto interrompo per cambiare vi faccio un giochino invece vi faccio vedere poi dopo ve la ve la invio anche tramite 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 allora condividere mi sono nascosta perfetto al posto di condividere lo schermo giochino cosa stiamo vedendo cosa stiamo vedendo cosa stiamo vedendo allora ragazzi vi ha fatto una domanda vi ha fatto una domanda vi ha fatto una domanda sembrano due ortofoto una dell'aprile 2020 una dell'aprile 2021 allora sono due ortofoto sì giusto cos'è un ortofoto cos'è un ortofoto quindi sono delle fotografie prese in questo caso da satellite il satellite è il sentinel 2 quindi il satellite di ESA anche lui ha tutte le foto scaricabili liberamente passaggio una volta alla settimana ho cercato di prendere due a distanza di un anno però raccontano il territorio in maniera un po' strana la classe la la categoria di colori dal verde 1 al rosso meno 1 è una colorazione standardizzata per questo per questa immagine sono delle analisi del verde quindi delle piante dove c'è il verde scuro siamo verso l'uno e la fotosintesi è maggiore dove c'è meno uno siamo fondamentalmente nell'acqua e quindi non c'è la fotosintesi in questo caso di pixel con acqua ce ne sono pochi probabilmente sono legati nell'aprile 2021 l'immagine faceva un po' più schifo era più nuvoloso e quindi c'erano delle o nubi o comunque delle zone in cui c'erano errori di pixel non l'ho pulita questa immagine a parte questo ci racconta un'area che è questa in cui c'è una specie di un ippodromo o comunque un'area in cui qua si vede meglio in cui trottano dei cavalli e quindi la vegetazione è più più rada ci racconta che questa area è un'area umida che quindi ha una bella fotosintesi dai bei prati è un campo da golf e poi ci può raccontare ovviamente confrontando le mappe da un giorno con l'altro da una stagione con l'altra potremmo identificare la tipologia di cultura praticata e quindi ad esempio si vede bene in questi campi che quando è verde scuro ad aprile probabilmente in quest'anno ci sono dei cereali autunno vernini immagino orzo o avena o segale e l'anno prima invece c'era l'anno dopo invece c'è qualcos'altro e quindi ci racconta qualcosa di dinamica qua che ci permette di raccontare un territorio avevo provato anche questo è parco pineta siamo fra tradate a piano questo è il campo da golf della pinetina tanto per avere un'idea poi se volete andarlo a vedere su google maps che faccia c'ha davvero con i colori avevo provato a vedere se riuscivo a identificare invece le aree del campo dei fiori che erano state soggette a incendio o a schianti ma in quel caso non sono riuscita a identificare bene i tempi e quindi non rendevano tanto l'idea è una delle analisi che faccio quindi una cosa un po' strana un po' particolare e volevo condividerla con voi ecco grazie le mappe che uso sono open source quindi o comunque disponibili e scaricabili e ognuno ci può giocare ecco ovviamente questa è una mappa derivata quindi è una mappa che ho creato io sulla base delle bande dell'analisi perfetto allora Anna grazie i fatti miei scusatemi grazie grazie per questo per questo tuo intervento che ci ha fatto capire alcune cose allora ci ha fatto capire che quindi la creazione di mappe e l'utilizzo di queste mappe riguarda anche diciamo non necessariamente un pubblico una divulgazione ma anche riguarda anche il privato che vuole monitorare il suo territorio e quindi vuole avere determinate informazioni da tenere sotto controllo e che devono essere codificati in un certo modo tra cui colori linee eccetera eccetera e tu sei un esperto di questo quindi c'è un terreno molto molto ampio per l'utilizzo di questi prodotti e anche professionale direi anche un terreno professionale poi un'altra cosa interessante che dobbiamo portarci a casa da questa tua presentazione e che esistono degli strumenti che sono anche sofisticati chiaramente abbiamo visto questa applicazione non è semplice da utilizzare però noi abbiamo a che fare anche con tanti giovani che ragazzi e studenti che sono un po' smanettoni potrebbe essere anche un'applicazione interessante per svolgere tutta una serie di lavori legati ad attività didattiche varie e anche pensate non so all'abitazione dello stesso studente che nel corso degli anni viene monitorata viene catalogata e c'è quindi noi possiamo utilizzare questa applicazione per tante cose tra le quali anche per esempio la creazione di mappe immaginarie perché no se noi ci agganciamo come tu dici a una serie di carte di fotografie di vario genere aeree soprattutto che sono utilizzabili gratuitamente pubblicamente noi possiamo creare anche delle mappe metaforiche fantastiche e ragionare ragionare per esempio sulla sostenibilità urbana sulla sostenibilità di un territorio sulla cittadinanza eccetera proprio proprio costruendo delle mappe che non necessariamente rispondano a un determinato territorio perché ne abbiamo gli strumenti e qui ci ricolleghiamo a quello che è stato presentato prima per cui io ti inviterei se tu ne hai voglia in cambio di uno dei favolosi dei favolosi e incredibili premi che vengono distribuiti a Gotham City se tu ci prepari una piccola scheda ma proprio una cosa semplice in cui ci spieghi ci dici il nome appunto di questa applicazione così dai due o tre indicazioni quelle fondamentali per poterla cominciare a usare per un neofita diciamo quali sono le prime operazioni che può fare poi ci dai un piccolo elenco di siti dove possiamo trovare delle risorse open source che possiamo utilizzare e rendere pubbliche anche modificandole ecco che noi abbiamo in mano uno strumento che ciascuno di noi poi può utilizzare che a Gotham vedremo anche in che modo lo possiamo integrare nel nostro percorso per cui adesso rapidissimamente non abbiamo volevo aggiungere due cose una che c'è la possibilità comunque anche di disegnarci sopra quindi comunque la possibilità di creare nuovi layer nuovi strati e in quegli strati si possono aggiungere anche informazioni legate ad altri programmi quindi ad esempio si possono aggiungere foto che possono essere aperte cliccandoci sia io lo gioco in locale ma c'è la possibilità anche di integrarlo in un sito quindi uno può anche immaginare di creare un sito un po' come usando Google Google Maps e le proprietà di Google Maps facendo un sito apposta per un progetto ovviamente con una certa sarebbe fantastico tu pensa già solo a un ambiente di apprendimento come quello di Gotham che in fin dei conti si svolge in un ambiente immaginario che cosa noi potremmo creare da questo punto di vista come ambienti come ambienti veramente navigabili e interagibili attraverso anche finte mappe tra l'altro che però avrebbero tutto l'aspetto di mappe molto realistiche assolutamente un'ottima idea questa però non hai risposto alla proposta che ti ho fatto sì 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 faccio adesso hai? sì? faccio sì sì va bene volevo rispondere a due cose al volo ad Antonello per la certificazione biologica l'azienda deve seguire dei requisiti di un regolamento europeo e poi visto che è un'azienda che è già attiva da qualche anno abbiamo chiesto speriamo di ottenerlo la riduzione del periodo di conversione cioè del periodo in cui un'azienda deve rispettare i requisiti del biologico ma non può marchiare biologico i suoi prodotti che standardizzamento è di tre anni in realtà questa azienda come tante aziende che decidono di aderire al biologico non aderiscono da oggi al domani ma lavorano già in biologico prima di certificarsi ci credono davvero almeno quelle piccole e quindi l'idea era appunto descrivere quello che ha fatto l'azienda negli ultimi tre anni per dimostrare che sono stati bravi per Nicola taglio di bosco intendi cosa Nic ciao intanto grazie no nel senso che guardando le mappe vedendo le colorazioni mi sembrava che potesse essere in alcune aree che si fossero stati o dei tagli di bosco o degli incendi comunque una riduzione della della vegetazione magari mi sbaglio ma siccome hai detto facciamo un gioco sì sì no probabilmente ci sono ci sono stati dei tagli che stanno facendo adesso proprio in quell'area hanno fatto alcuni tagli c'è tra l'altro un passaggio in cui c'è una linea elettrica di alta tensione non so se hanno fatto la pulizia della vegetazione periodica in questo periodo effettivamente confrontando più foto si ha conferma di questo no di sicuro in alcune aree hanno fatto dei tagli e ci sono stati degli schianti grossi dovuti a una tromba d'aria che c'è stata quest'inverno bene allora dobbiamo chiudere ragazzi dobbiamo avvicinarci alla conclusione di questo webinar abbiamo ancora un tema da affrontare per completare questo questo giro questo tour panoramico e quindi possiamo poi continuare ovviamente la discussione e la chiacchierata nei forum di Gotham quindi grazie ancora ad Anna benissimo per aver accettato questa proposta e dobbiamo chiudere questo argomento però facendo una panoramica e portando l'obiettivo su quello che interessa a noi cioè alla fine divulgazione e apprendimento quindi di che cosa parliamo adesso beh adesso noi parliamo negli ultimi cinque minuti che ci rimangono parliamo di questo parliamo dell'apprendimento e divulgazione di prossimità che ha a che fare con la geolocalizzazione dell'apprendimento e quindi riusciamo così ad avere un quadro di sintesi che può dare tutta una serie di spunti per fare una cosa che poi vi dirò alla conclusione dunque qui voi vedete che non c'è nient'altro che la nostra rappresentazione di Gotham con le tre aree fondamentali che sono al centro al parco l'ortobotanico al camasillum ma noi oggi abbiamo a disposizione una serie di strumenti che ci consentono di fare in modo che l'informazione raggiunga il soggetto e non il soggetto vada all'informazione chiariamo bene questo concetto quando il soggetto cerca l'informazione ha davanti a sé un ampio ventaglio di possibilità che non necessariamente sono geolocalizzate voglio dire si può trovare in un determinato punto e cercare delle informazioni su un altro luogo si può trovare in classe e cerca delle informazioni sul parco nord questo è il sistema classico è il soggetto che cerca le informazioni ma attraverso i sistemi di geolocalizzazione è nato da qualche anno un nuovo sistema che va sotto il nome appunto di apprendimento di prossimità l'apprendimento di prossimità è quell'apprendimento che viene caratterizzato dal fatto che il soggetto è presente in un determinato luogo e all'interno di questo luogo lui riceve automaticamente delle informazioni ripeto riceve delle informazioni senza andare a cercare queste informazioni il processo di apprendimento di prossimità ha una linea di sviluppo che parte da strumenti basici fino ad arrivare a strumenti più complessi questi strumenti possono essere elementari i codici QR i QR code i QR code rappresentano ve la butto lì poi non so se avremo tempo un giorno di affrontare il tema ma rappresentano un linguaggio è un vero linguaggio non sono dei simboli grafici è una lingua il QR code consente al soggetto di ricevere delle informazioni geolocalizzate là dove lui si trova nella prossimità questo vuol dire apprendimento di prossimità cioè là dove vicino al luogo in cui lui si trova poi può visualizzare delle informazioni attraverso per esempio delle tecniche di visione a 360 gradi che voi per esempio Street View è una di queste tecnologie che consente di fare questo lo può fare attraverso degli strumenti di stereoscopia e oppure attraverso visori 3D stereoscopia e visori 3D che sono in pratica ecco la stereoscopia è questa che si vede con degli occhialetti speciali e quindi anche questa è un'informazione che può essere un'informazione di prossimità ed è un'attività anche tra l'altro molto interessante da creare con i vostri corsisti e studenti fino ovviamente ai invece visori 3D in realtà virtuale aumentate e così via per arrivare poi invece alla vera struttura diciamo più elevata più avanzata dell'apprendimento di prossimità che sono i beacon i beacon rappresentano veramente questo nodo cioè il soggetto si trova con un dispositivo digitale che ha in tasca si trova in un determinato luogo molto preciso e alla distanza che viene stabilita dalla programmazione di questo beacon e secondo determinate caratteristiche lui riceverà delle informazioni soggetti diversi presenti nello stesso identico luogo possono ricevere informazioni diverse e tutte queste informazioni sono delle informazioni che possono essere a carattere multimediale adesso io vi mostro qualche oggetto e poi chiudiamo la trasmissione guardate se vedete la videocamera cioè se mi vedete proprio perché tolgo lo sfondo tolgo lo sfondo e vi faccio solo una passerella di alcuni strumenti perché la domanda che io vi voglio opporre è se voi avete interesse nei confronti di queste cose e se voi già utilizzate degli strumenti di questo tipo allora possiamo organizzare un webinar per parlarne più approfonditamente ed ecco che vi mostro qualcosa allora per esempio questo è un robot un robot che si muove e può raccogliere delle informazioni dei dati scientifici sul territorio è dotato di cingolati che gli consentono di superare del terreno anche accidentato questo invece è uno strumento molto interessante il lab disk questo lab disk vedete ha tutta una serie di porte attraverso le quali si collegano degli strumenti fisici di rilevazione per esempio anche dell'acqua della luce per esempio la fotosintesi e così via e questi dati vengono trasmessi ai dispositivi i cellulari normali che possono avere gli studenti anche in forma grafica in forma di dati di Excel e quindi si può fare una rilevazione diretta sul territorio per gruppi di persone di soggetti che poi condividono questi dati questi dati possono essere condivisi anche a distanza poi abbiamo dei microscopi abbiamo dei microscopi che possono arrivare a 600 900 1000 ingrandimenti anche questi trasmettono le immagini e dispositivi del gruppo oppure possono essere anche divulgate attraverso la rete a un contesto molto più ampio sono fantastici perché costano molto poco si tengono in tasca e funzionano sia come microscopi sia come fonte di luce per illuminare ovviamente e quindi avendone per esempio un paio a disposizione noi abbiamo una situazione perfetta per rilevare anche in condizioni di scarsa luminosità i dati e le fotografie che ci interessano poi abbiamo la possibilità possiamo tranquillamente utilizzare dei droni che è argomento straconosciuto però 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 quello che io vi voglio mostrare è che noi possiamo utilizzare dei droni molto piccoli e quindi facilmente anche portabili governabili che non danneggiano nulla non pesano niente e non procurano danni e con questi droni noi possiamo ottenere delle fotografie da posizioni che ovviamente non potremmo fotografare stando con le nostre fotocamere o i nostri cellulari e poi infine ecco i famosi beacon che sono quegli oggettini eccoli qua questi sono i beacon lo vedete sono degli oggetti che hanno una forma tipo un sasso possono essere di vari colori questo è un altro questo è un altro tipo di beacon assomiglia a una specie di chiavetta usb ma non è una chiavetta usb e qual è la funzione del beacon la funzione del beacon è che il beacon viene programmato questo a livello di linguaggi di programmazione ma se ci sono persone interessate ovviamente lo possiamo affrontare perché il programmo i beacon hanno fatto dei lavori anche per aziende così di geolocalizzazione e i beacon che cosa fanno i beacon trasmettono direttamente le informazioni a chi beh trasmettono le informazioni al soggetto che passa passa nei pressi di un beacon col suo cellulare lui riceve automaticamente le informazioni siccome i beacon possono essere diversi e avere diversa natura voi potete suddividere le informazioni a secondo della tipologia di interesse informazioni biologiche piuttosto che chimiche piuttosto che naturalistiche storiche letterarie eccetera 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 allora vedete che oggi noi abbiamo veramente tutta una serie di opportunità incredibili incredibili che fanno della rilevazione dell'osservazione del territorio qualche cosa di stupefacente dunque questo si è incastrato ma questi sono invece degli occhiali per rilevare le immagini stereoscopiche quelle che vi ho mostrato prima l'immagine stereoscopica si può rilevare anche semplicemente incrociando gli occhi se voi guardate la punta del naso voi vedrete l'effetto stereoscopico dell'immagine che deve essere preparata in un certo modo ma ovviamente questo può dare fastidio a qualcuno non tutti lo possono fare allora questi occhialetti consentono di vedere le immagini stereoscopiche le immagini stereoscopiche a differenza delle immagini bidimensionali ci consentono di per esempio percepire le distanze quindi stabilire un'osservazione che è diversa da quella tradizionale direi che siamo rimasti più o meno nei tempi questo è il mini webinar di oggi dedicato alle mappe se avete qualche cosa da dire molto rapidamente ma veramente molto rapidamente lo possiamo fare altrimenti ci salutiamo e ci rivediamo poi a Gotham con l'appuntamento per lunedì quando inizia il secondo capitolo che sarà molto impegnativo e poi a partire da lunedì i tempi si stringono voi avete avuto tra il capitolo 1 e il capitolo 2 15 giorni di tempo tra il capitolo 1 e il capitolo 2 ne avrete 6 e quindi e quindi a lei hop come dice Batman direi approfondiamola questa cosa a me non mi interessa anche secondo me approfondiamola molto bello sì sì anche rilevamenti di vario tipo noi per esempio abbiamo una boliera per cicogne e vorremmo fare una trasmissione in diretta con le videocamere stavamo appunto cercando di capire un metodo interessante per farlo e abbastanza rapido per farlo e beh scrivi ne parliamo troviamo una soluzione telefonami ci ragioniamo bene vi ringrazio è stato molto interessante questo webinar e grazie alle nostre ospiti che ci hanno presentato dei lavori e ci hanno dato delle idee ci hanno ispirato per il futuro le cose da fare sono veramente tante ma più sono e più naturalmente avete possibilità di scegliere e poi focalizzarvi perché ricordate alla fine del vostro tour per Gotham City dovrete realizzare un project work di cui parleremo tra un paio di settimane per oggi è tutto saluti da Gotham grazie Alberto buon weekend ciao a tutti grazie grazie ciao 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 Alberto io ho una domanda io rimango allora dimmi dimmi no è solo è solo tecnica sì io sono arrivata in ritardo a voler completare le mie attività mi sono accorta che non lo posso più fare chi sei dove sei che parli Chiara ho lo stesso problema perché io ho detto ho tempo fino a domenica lo faccio sabato no questo intanto questo è il modo sbagliato di procedere perché è il modo istituzionale quello che hanno tutti gli studenti mi riduco all'ultimo eh ma infatti io sono io lo faccio anche per lavoro di ridurmi quasi all'ultimo guardate a Gotham City è successo un gran casino oggi pomeriggio avrete delle notizie leggete il Corriere di Gotham siete abbonati? sì ma voi leggete tipo Repubblica queste cose qua no dai leggete il Corriere di Gotham no no leggiamo il Corriere di Gotham e basta è l'unica fonte nostra di informazione ma esatto esatto assolutamente potete anche fare della pubblicità su Corriere di Gotham se ci mandate in redazione delle pubblicità vediamo di pubblicarle gratuitamente va bene allora grazie ciao 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 Grazie a tutti.